Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, venerdì 16 febbraio, fra pochissimi minuti parleremo di football, come sempre, ma prima però vi volevo raccontare una storia molto significativa su quelli che sono i rumor e le indiscrezioni e sul perché vi dico centomila volte. Attenzione, ci sono le fake news, ci sono le indiscrezioni che non sono notizie ufficiali, ci sono rumor che non sono notizie ufficiali, attenzione, attenzione, non date per scontato le cose, eccetera. Allora, usciamo un attimo dal campo dei videogiochi di calcio e parliamo di Xbox. Se seguito il mondo dei videogiochi a 360 gradi avrete sicuramente sentito nelle ultime settimane che si parlava di Xbox che usciva dal mercato hardware, che diventava solo una software house per tutte le piattaforme, che Xbox non avrebbe avuto più hardware, eccetera, eccetera, ieri sera c'è stato un podcast, l'Official Xbox Podcast, in cui praticamente, tranne una piccolissima parte, tutte le indiscrezioni si sono completamente capovolte. A pensare male, ma non voglio pensare male, quasi sembra che Microsoft le abbia fatte girare per far poi dire che era tutto falso, noi invece siamo sempre più interessati al mercato hardware delle console. Per farla breve, Xbox intanto porterà dal 28 marzo sul Game Pass Diablo 4, il primo gioco Activision Blizzard completamente gratuito per gli abbonati Xbox Game Pass, che tanta roba, secondo me, è un bel giocone, per chi non l'ha giocato su PC e Xbox è davvero una bella aggiunta e dici Xbox che aggiungeranno anche altri titoli. Che arriverà nuovo hardware? Non è stato ben specificato entro il 2024 se saranno nuove console magari con hard disk più potente, più piccole, l'Xbox Slim, eccetera, eccetera, ma che sicuramente arriverà un Xbox New Generation, cioè la prossima generazione successiva a Xbox Serie X. Quindi tutte le indiscrezioni sono state completamente maciullate dalla realtà ufficiale, Starfield è una esclusiva Xbox, Indiana Jones rimane una esclusiva Xbox, soltanto quattro giochi usciti già da un anno su Xbox saranno portati anche su PlayStation e Nintendo Switch. Questo, sono un po' fuori tema rispetto al solito, ma oddio, siamo Italia Top Games, penso pure che sia il caso di parlare non solo dei videogiochi di calcio, ma io ve lo dico soprattutto per dirvi che anche in questo caso, a questi livelli, ai massimi livelli del gaming, quando parliamo di Xbox e di PlayStation, parliamo di una percentuale in mercato enorme dei videogiochi, tralasciando Switch e PC, quello è Xbox e PlayStation, ecco le indiscrezioni si possono rivelare molto fetecchiose, molto fake, qui si parla di una minima parte di giochi, quattro, quattro, già usciti su Xbox da un anno, che arriveranno su Switch e PlayStation, e Xbox non lascia non lascia il mercato hardware, anzi raddoppia, parla di nuovi hardware in arrivo entro il 2024, qualcuno parla addirittura di un Xbox portatile, ma questa è un'indiscrezione, non è ufficiale, ma sicuramente arriverà qualcosa, Xbox ha promesso anche una nuova generazione di console. Ecco, spero che questo vi aiuti, perché ancora io ricevo dei messaggi, ma ho letto che, io dico, la fonte, chi è, chi l'ha detto, è ufficiale, non è ufficiale, qual è la fonte, insomma, spero di essermi spiegato per l'ennesima volta su questo tema, perché a volte è difficile interagire con chi è davvero convinto, ma non è colpa di nessuno, perché se uno vede una cosa su internet così, se non fa questo processo cognitivo di differenziare notizie ufficiali, indiscrezione e rumor, ancora succede così, e ogni tanto magari qualcuno si annoia, però io reputo invece importante anche fare questo tipo di lavoro, di informazione, di decriptazione di quelle che sono le informazioni, che in rete ce ne sono tantissime, e ancora ci vuole questo approccio comunque a spiegare la differenza fra notizie ufficiali, indiscrezioni, rumor, leak, eccetera, 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 e comunque, tra l'altro, vi ho detto pure di queste novità dal mondo Xbox. Qualcuno mi prende personale a me, io non sono nulla, cioè proprio, io sono amichista, ecco, l'unica fazione che prenderei è quella del comodo all'amica, ma parliamo della preistoria. Comunque, detto questo, veniamo ai football, io ringrazio sempre il signor Davidigno per darmi promemoria, perché me lo dimentico, perché non partecipo, da oggi ragazzi, fino a domenica, c'è il round 2 dei Football Championship Milan, qui è quando il round 1, praticamente il 99% di chi partecipa lo supera, anche il 99,9%, in round 2 rimane lo 0,1%, quindi è durissima, mi pare che la classifica si basa sulle 15 partite fatte migliori, insomma, provateci, provateci, se volete, è questo il fine settimana giusto, poi da lunedì inizia il Testing My Limit, che è molto semplice, ma è al di fuori dei Championship, quindi lunedì abbiamo avuto l'Inter, fine settimana abbiamo il Milan con il ranking event, da oggi a domenica 18, grazie ancora a Davidigno. E poi ragazzi, l'indiscrezione che vi ho dato già la scorsa settimana, si è quella indiscrezione un po' criptica, perché non potevo dire di più, si è rivelata vera, cioè è arrivata ieri l'immagine, è arrivata la nuova maglia del Milan in colorazione bianca e nera, qualcuno diceva non può essere la maglia perché ne sono due, vabbè, ma la maglia è una in due colorazioni, e qui vediamo il trailer ufficiale appunto della nuova maglia con Giroud, Leao, Teo, ed eccola qui, la nuova maglia che già abbiamo visto ieri, molto particolare, molto baroccheggiante per così dire, lo rivediamo un attimo, eccolo qui, molto bella, indubbiamente molto bella, disponibile per tutti, non è un pack, non è con punti football, con monete, la maglia è disponibile prendendo il Milan, semplicemente. E infine ragazzi, anteprima leggende di lunedì, allora, anche qui dividiamo le cose, questi giocatori che vedete sono in evidenza, sono i Guardians della Premier League, e vengono dai Football Hub, quindi questi li possiamo dare per assodati, 99% i Football Hub, ci sarà un Guardiol in evidente, Varane, Trippier, Disasi, o Disasi, non lo so, e Stupignan, Camara, Udoge e Kufal, Udoge, LB. E questi è il pack, le indiscrezioni portano a questi tre giocatori, sono abbastanza, portano tutte qua, Smychol, Mertesacker e Dixon, un ringraziamento a Francesco, leggendo 88, gli overall lasciateli lì, perché quelli sono invece molto più difficili da prevedere, perché quelli Konami non li rilascia all'interno del database, però Smychol, Mertesacker e Dixon dovrebbero essere proprio loro, due leggende dell'Arsenal e uno del Manchester United. Smychol secondo alcuni, alcuni sarà il portiere più forte del gioco, io questo non lo so, io già con Cech e Casillas imprego enormemente nei loro confronti. Questo è quanto ragazzi, per oggi è tutto, io vi do appuntamento a questa sera per il campionato con il mistero emergenti, mi è successa una cosa che vi racconto, non ve la mostro neanche nel video perché è stato raccapricciante e poi dopo cambia qualcosa, inizia a girare meglio il tutto, anche se con molta sofferenza. Quindi vi aspetto alle 20 anche per questo mistero che è accaduto e che sta accadendo in questi giorni e poi dopo vedete le partite. Salvo Breaking News, se arrivo a Breaking News ovviamente tumpete subito subito, sabato, domani mattina pure andiamo nel passato di football perché c'è una cosa molto interessante che mi era sfuggita. La sera è il campionato, domenica mattina un'edizione speciale dei giri gratis perché perché c'è anche il giro del pool del gioco dei rigori sperando di beccare Costa Curta e non cobble, lo vedremo domenica, poi faccio il giro oltre ai giri gratis giro anche il pool dei giocatori della settimana, ieri un sacco di polemiche per qualcuno è pessimo, il pool di ieri va bene, uno può esprimere liberamente le opinioni quando invece dopo qualcuno esprime un'oggettività su un gioco molto particolare come i football, su un gioco su cui ci sono tantissime teorie, il metodo scientifico è difficilmente applicabile, io dopo mi inalbero un attimo perché rispetto le opinioni di tutti vorrei che fossero rispettate anche le mie, scusate la parentesi. Ragazzi buona giornata, buon inizio di fine settimana, fatemi sapere che ne pensate di queste leggende, fatemi sapere che ne pensate della strategia di xbox e fatemi anche sapere se vi piace la maglia nuova del milan in doppia colorazione. Al prossimo video, ciao!